Eccoci, buonasera. Il telegiornale parte dalla scenografica approvazione da parte del Senato del disegno di legge sull'autonomia. Perché scenografico? Perché al momento del voto le opposizioni per protestare anche in maniera immaginifica contro l'approvazione del provvedimento che passa alla Camera per il voto definitivo hanno intonato l'inno di Mameli. Però quello che forse non si aspettavano è che sarebbe successo, come è successo lo stesso da parte dei banchi della maggioranza. Come due curve, il caso di dire, in effetti era l'emiciclo di Palazzo Madama. Ovviamente dopo questa parte consacrata dall'inno nazionale, come sapete peraltro il partito della Premier si chiama Fra Proprio Fratelli d'Italia. In realtà sono partite poi le accuse dure di Ellie Schlein che ha detto che la nazionalista Meloni vuole spaccare l'Italia con questo provvedimento. E l'annuncio di una mobilitazione politica e sociale potrebbe arrivare anche alla richiesta di referendum. Ma insomma era ovvio e si sapeva che questo è un passaggio cruciale della legislatura e si vedrà anche cosa succederà dopo il voto, quello più importante, quello definitivo della Camera. E lì cercheremo di spiegare anche che cos'è questo progetto nel momento in cui i suoi aspetti, le sue parti importanti, i suoi articoli saranno legge. Ma vedremo anche che la politica vive di altre tensioni, oltre a quelle che sono nella contrapposizione maggioranza e opposizione. E non le vive solo la politica. Sabato è il giorno della memoria e avevamo già modestamente indicato i rischi legati a questo appuntamento annuale che cade però durante una guerra come quella di Gaza. E infatti tensioni si sono accumulate anche dopo la notizia che nello stesso giorno di sabato, del 27 gennaio, accanto alle manifestazioni in ricordo della Shoah, ci sarà un corteo promosso dal movimento dei giovani palestinesi contro il genocidio, ma non quello di Auschwitz e degli altri campi di sterminio, quello che asseritamente avviene in queste settimane a Gaza. Ovviamente tutto questo porta a un vortice di polemiche e anche di preoccupazioni. Ma poi la sostanza è la guerra vera e propria, quella che si combatte appunto sulla striscia di Gaza e non soltanto. Secondo quanto è filtrato e pare confermato, c'è stata una proposta attraverso i mediatori internazionali, che sono il Qatar e gli Stati Uniti soprattutto, di Israele a Hamas due mesi di tregua totale in cambio della liberazione di tutti gli ostaggi. Sarebbe stata respinta questa proposta da Hamas con le parole chiare, la pausa, ogni cessata del fuoco, ogni tregua, ci sarà soltanto e soprattutto il rilascio degli ostaggi quando vi sarete ritirati da Gaza. Intanto ovviamente Israele si trova nella tensione doppia della protesta che si fa sempre più forte contro Netanyahu da parte dei familiari degli ostaggi e del shock per l'imboscata dentro Gaza in cui sono morti 21 soldati israeliani. Vedremo però che ci sono tutti gli altri argomenti forti, e anche della scena internazionale perché Trump stanotte insegue nelle primarie, le prime vere primarie, la possibilità di una vittoria per KO contro l'unica avversaria che gli è rimasta, Nikki Haley, dopo il ritiro di De Santis. Ma si addensano preoccupazioni per quello che può essere il bis di quattro anni fa con una sostanziale differenza che Trump evidentemente è più forte e ha guerrito, ma soprattutto obiettivamente che i due, Biden e Trump, danno entrambi segni di non eccessiva freschezza, essendo che accumulano in 258 anni di età. Ma vedremo anche le notizie che riguardano lo sport, il dolore nazionale, vero, forte, per la scomparsa di Gigi Riva, ma insieme, perché il mondo dello sport è fatto anche di questo, la soddisfazione per l'esaltante vittoria ennesima, e non ha lasciato nessun set finora agli avversari di Yannick Sinner agli Open d'Australia. In semifinale chi trova venerdì prossimo proprio Djokovic. Questo è altro, un minuto di titoli. Il Senato ha approvato il disegno di legge sull'autonomia differenziata con 110 voti a favore, 64 contrari. Ora il testo passa alla Camera per la seconda lettura. Caos in aula, esulta, compatta la maggioranza, la Lega espone la bandiera del carroccio, le opposizioni espongono la bandiera italiana, cantano l'inno di Mameli, che viene poi cantato anche da Fratelli d'Italia per rivendicare il risultato. Poi, durissima Schlein, Meloni ha ceduto al baratto col premierato, minando l'unità nazionale. Per il giorno della memoria, sabato prossimo, 27 gennaio, mentre saranno ricordati in tutta Italia e nella capitale da parte della comunità ebraica e delle istituzioni culturali e politiche nazionali gli errori della Shoah, ci sarà anche una iniziativa a Roma del movimento degli studenti palestinesi, che hanno organizzato un corteo chiedendo lo stop a quello che chiamano il vero genocidio di oggi, quello del popolo palestinese. E tra l'altro, nel loro manifesto, citano una frase tratta da Se questo è un uomo di Primo Levi, il che evidentemente provoca la reazione durissima da parte delle istituzioni ebraiche, ma anche il rischio di creare tensione su tutta l'intera giornata. Respinta da Hamas, la proposta israeliana di un cessato il fuoco di due mesi a Gaza in cambio della liberazione degli ostaggi nelle mani delle milizie. Prima il ritiro delle truppe israeliane, chiede Hamas, ma i colloqui proseguono con la mediazione di Qatar e Stati Uniti. Nella striscia alle operazioni dell'esercito israeliano ci concentrano ora a Khan e Yunis dopo l'incisione dei 21 soldati nell'imboscata. Negli Stati Uniti stanotte il voto delle primarie repubblicane in New Hampshire, Trump è ampiamente in testa dei sondaggi davanti a Nikki Haley, che resta l'unica avversaria dell'ex presidente dopo il passo indietro del governatore della Florida DeSantis. Ma l'America si interroga anche di fronte alle loro recenti incertezze sull'età dei rivali più probabili nelle elezioni di novembre. Biden e Trump hanno rispettivamente 81 e 77 anni. È compatto, forte, corale. Il ricordo è il rimpianto e il dolore per la morte di Gigi Riva. avvenuta 24 ore fa allo stadio di Cagliari è stata allestita, la camera ardente già visitata da una fila impressionante di persone. Ma le immagini che vedete ci portano allo sport combattuto di oggi perché Yannick Sinner ha compiuto un'altra impresa in semifinale agli Open d'Australia e per ora non ha ceduto un solo set a nessuno degli avversari nei tre turni e venerdì incontra quello che è diventato il suo arci rivale Novak Djokovic. Buonasera, quindi tante notizie ma ci pare giusto aprire con quello che è successo al Senato sia perché è un'immagine insolita sia perché era previsto e c'è stato il voto su una materia importante sia perché quel voto ha poi acceso una durissima polemica tra opposizione e maggioranza. Parliamo dell'autonomia differenziata. Disco verde per l'autonomia differenziata che passa in Senato 110 favorevoli, 64 i contrari mentre in aula va in scena un derby sull'inno di Mameli. Le opposizioni criticissime lo intonano provocatoriamente parlando di Italia spaccata e accusando Fratelli d'Italia di tradire la patria cuore a cui si unisce la maggioranza a cominciare dal partito della Premier per rivendicare il risultato ottenuto. Sui banchi del governo oggi insieme al ministro Calderoli padrino del testo che parla di passo avanti verso un risultato storico visto che la legge ora passa alla Camera era lo stesso Salvini che esulta per la battaglia vinta. Vessillo buono da sventolare nella prossima campagna elettorale. Ora l'Italia è più moderna. Le sue parole. Le opposizioni parlano di secessione dei ricchi e di una legge che rischia di aumentare i divari. Meloni passerà la storia per aver spaccato l'Italia accusa la segretaria Demme e Lischlein. Useremo ogni strumento per fermare questa legge e ci batteremo in aula alla Camera ma non solo. È necessaria una mobilitazione delle opposizioni. Non esclude il referendum senza rilanciarlo per poi attaccare. Singolare che proprio i nazionalisti mettano a repentaglio l'unità nazionale. Che sia il partito della Premier l'obiettivo lo dimostrano i tricolore che il PD sventola in aula. Meloni spacca il paese e svende il sud a Salvini e affonda a stretto giro Conte. Siete fratelli di mezza Italia l'accusa rivolta da sinistra. Fratelli d'Italia rivendica il lavoro di rammendo e di miglioramenti fatto in Parlamento sul testo e nega la possibilità di un baratto tra autonomia e premierato. Non avremmo mai messo nel programma qualcosa che possa essere dannoso per l'Italia. Di fatto il DDL dà le regioni che lo chiederanno la possibilità di decidere su 23 materie da istruzioni ad energia alle reti infrastrutturali fino alla tutela e alla sicurezza del lavoro. Già in Pol, Veneto e Lombardia dopo i referendum infatti procedura che potrà partire tra non meno di 24 mesi necessario prima definire i LEP livelli essenziali di prestazione garantiti dallo Stato alle regioni che non ricorreranno all'autonomia. Questo per quanto riguarda il passaggio al Senato del provvedimento sull'autonomia differenziata ma poi ci sono tante altre materie che in questo momento infiammano la politica direttamente potremmo dire nel rapporto tra la Premier e le opposizioni. Ieri l'intervista a Quarta Repubblica in cui ha mandato vari avvisi ai naviganti vedi Fiat ed opposizioni avvertendo che lei non prende lezioni da nessuno. Domani il question time alla Camera nel quale è attesa al Varco tra gli altri dai leader di PD e 5 Stelle rispettivamente su sanità e nuovo patto di stabilità. Giorgia Meloni si mostra sempre pronta ad affrontare avversari e nemici ma spesso è proprio dagli amici che si deve guardare come nel caso del deputato di Fratelli d'Italia ora sospeso Pozzolo protagonista dello sparo alla festa di Capodanno nel Biellese. L'esame dello Stub ha rivelato tracce di polvere da sparo sia sui vestiti che sulle mani dell'onorevole che risulta l'unico indagato per il ferimento di un ospite del Veglione il genero dell'ormai ex caposcorta del sottoscrittario alla giustizia del Mastro fedelissimo della Premier presente alla festa che ha sempre sostenuto di essere assente al momento dello sparo. Pozzolo da parte sua ha sempre dichiarato di non essere stato lui a sparare anche se la settimana scorsa di fronte al PM si è avvalso della facoltà di non rispondere alimentando i sospetti nell'opposizione che resti qualcosa di non chiarito su chi abbia effettivamente fatto partire il colpo. Nel frattempo si è saputo che il caposcorta di Del Mastro è stato sostituito. Altra vicenda che sta alimentando le polemiche di questi giorni riguarda un altro fedelissimo di Giorgia Meloni il vice ministro alle infrastrutture Bignami accusato dal segretario dell'Associazione Nazionale dei funzionari di polizia di avere fatto pressione sulle forze dell'ordine in occasione della visita mercoledì scorso a Forlì della premiera della Presidente della Commissione Europea von der Leyen pretendendo di limitare il diritto di manifestare dei comitati degli alluvionati. Comportamento arrogante per le opposizioni che chiedono le dimissioni di Bignami. Il compagno di partito Donzelli lo difende la stessa fonte da cui le opposizioni traggono le loro conclusioni ieri ha fatto una nota in cui dice di avere parlato con Bignami hanno chiarito e non c'era nessuna critica sul suo operato è tutto superato assicura Donzelli un caso Bignami c'è a prescindere quello che ha fatto è grave e non è chiarito la replica del verde Bonelli. Ma c'è una questione che in questo caso non riguarda maggioranza e opposizione ma il sistema istituzionale culturale religioso etnico del paese e tanto altro riguarda la nostra cultura e la nostra storia qui non è più il saluto romano qui è l'avvicinarsi sabato prossimo del giorno della memoria in cui istituzionalmente e non si ricorda l'orrore degli orrori del novecento cioè lo sterminio degli ebrei degli omosessuali dei sinti dei rom d'Europa da parte dei nazisti questo non dimentichiamolo è il giorno della memoria non è la festa degli ebrei come qualcuno vuole ricordare e quindi proprio perché questo è il giorno della memoria le tensioni erano prevedibili visto che il 27 gennaio arriva in pieno tempo di guerra ma quello che è stato annunciato oggi non era imprevedibile ma porterà evidentemente a nuove tensioni in tempo di nuove guerre la giornata della memoria arriva sabato prossimo scontato che questa data sia un appuntamento delicato in termini di sicurezza meno prevedibile forse che il giorno dedicato al ricordo dell'olocausto venisse scelto per una manifestazione pro palestina convocata a Roma dal movimento degli studenti palestinesi in Italia con l'adesione di diversi gruppi e associazioni il corteo autorizzato in un percorso di circa un chilometro si svolgerà dalle 15 alle 18 nel pieno centro della capitale stop al genocidio del popolo palestinese recita il manifesto citando una frase tratta da se questo è un uomo di Primo Levi obiettivo degli organizzatori smascherare scrivono le incoerenze e le ipocrisie di un sistema colluso che impiega due pesi e due misure rispettiamo profondamente le vittime della Shoah precisano ma il 27 gennaio così come è strutturato è la tomba della verità della giustizia della coerenza per questo invocano la piazza contro ogni sionismo e fascismo e contro quella che definiscono la pulizia etnica dei palestinesi iniziativa e parole che fanno indignare alcune associazioni come 7 ottobre che le legge in chiave antisemita ma soprattutto cadono nelle ore in cui a Palazzo Chigi si presenta il programma delle celebrazioni ufficiali per sabato prossimo lasciate Primo Levi alla nostra memoria abbiate la dignità di manifestare il vostro pensiero senza offendere la memoria dei sopravvissuti e cercatevi citazioni altrove commenta Noemi Disegni presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane quest'anno non si farà la tradizionale maratona della memoria per ragioni di sicurezza Disegni spiega la decisione citando esplicitamente altre piazze recenti quelle dei saluti romani di H. Larenzia e quelle dei centri sociali che sabato scorso a Vicenza hanno protestato contro la presenza israeliana in una fiera se c'è una situazione dove sono liberi coloro che alzano il braccio per il saluto romano e fanno loro sì le manifestazioni così come lo squadrismo dei centri sociali sono quasi tutelati da una libertà costituzionale evidentemente è abberrante che non lo possa fare tutta la cittadinanza per correre liberamente e questo è l'impegno di coerenza sul quale chiediamo attenzione Il sottosegretario Alfredo Mantovano assicura che il governo è in grado di garantire la sicurezza di qualunque iniziativa per rispettare la libertà di manifestare i limiti dice sono solo il rispetto delle leggi in vigore e dell'ordine pubblico Ma certo la questione ci riguarda è importante ma siamo sicuri che tutto avverrà in piena libertà e senza rischi gravi di nessun tipo è però quello che in qualche modo mima quello che sta succedendo in Medio Oriente e non poteva essere diversamente oggi le notizie però sono molto chiare da quella zona Hamas respinge la proposta di Israele due mesi di tregua di fatto in cambio del rilascio degli ostaggi e il governo di Netanyahu è sempre più nel mirino dei familiari degli ostaggi e delle opposizioni che chiedono la rimozione del Premier La proposta avanzata ieri in tarda serata da Israele è stata respinta da Hamas prevedeva il cessato il fuoco di due mesi lo scambio degli ostaggi con i prigionieri palestinesi l'esilio dei leader dell'organizzazione ma senza un ritiro delle truppe israeliane da Gaza Hamas non intende rilasciare i rapiti e non se ne è fatto nulla per ora in retroscena è arrivato da dove si media ormai da mesi e si continuerà a farlo il Qatar e lo ha riferito Majed Al-Hansari portavoce del Ministero degli Esteri accanto al lavoro diplomatico dell'Emirato c'è quello degli Stati Uniti il consigliere di Biden per il Medio Oriente Brett McGarck si sta muovendo tra Egitto ed altri paesi per un accordo di lunga durata lo ha detto John Kirby riaffermando il sostegno del suo paese ad una tregua probabilmente la proposta respinta da Hamas era quella di cui ha parlato ieri Netanyahu ai familiari dei rapiti che avevano protestato davanti ai suoi uffici e fatto irruzione alla Knesset un accordo che per ora non ha visto la luce lasciando nell'angoscia le famiglie di 136 persone e i civili di Gaza ancora sotto le bombe israeliane Caniunis è il prossimo obiettivo e rischia di fare la fine di altre città della striscia rasa al suolo molti edifici pubblici vengono fatti saltare in aria dai militari israeliani il Parlamento l'anagrafe l'università sono andate distrutte probabilmente 21 soldati morti nel campo profughi di Magazzi stavano minando alcuni palazzi il portavoce dell'esercito Alevi ha detto che stavano lavorando alla creazione di una zona cuscinetto lungo il confine meridionale la prospettiva futura è quella di poter far tornare in assoluta sicurezza la gente nei kibbutz attaccati il 7 ottobre ma un'esplosione li ha travolti per il Jerusalem Post i militari avrebbero compiuto errori col posizionamento delle mine Hamas invece ne ha rivendicato la morte che rappresenta per l'esercito israeliano il peggiore episodio dall'inizio della guerra ma sono le testimonianze rese oggi alla commissione della Knesset sugli ostaggi a Gaza scuotere il paese due donne liberate nel corso degli scambi hanno raccontato di ragazze e ragazzi stuprati e abusati nei tunnel ne hanno fatto i loro fantocci le loro bambole spero solo non tornino incinte ha detto Han Goldstein Almong che ha raccontato di avere visto gli abusi prima di essere rilasciata a novembre andiamo a vedere come questa notte si giochi una parte importante della corsa che precede la volata per le presidenziali americane di novembre perché se Trump vince stanotte in New Hampshire è praticamente certa la sua renomination e c'è il girone di ritorno la rivincita di quattro anni fa dopo il ritiro del governatore della Florida Ron DeSantis oggi in New Hampshire nelle prime vere primarie repubblicane in Iowa erano caucus va in scena il duello Trump-Halley un faccia a faccia che almeno stando ai sondaggi potrebbe essere il primo e anche l'ultimo nella più recente rilevazione pubblicata da NBC ad urne aperte l'ex presidente viene segnalato addirittura al 60% mentre la sua ex ambasciatrice all'ONU al 38% una distanza che se confermata dalle urne potrebbe costringere al ritiro Nicky-Halley con Trump proiettato verso la nomination nella riedizione quattro anni dopo della sfida con Biden nell'election day del 5 novembre ma Halley naturalmente non si arrende e se un successo appare impossibile per restare in pista forse basterebbe contenere i danni grazie al voto degli indipendenti per poi giocarsi le ultime carte in South Carolina dove è stata governatrice lei promette che la sua corsa continuerà perché non è uno sprint ma una maratona e negli ultimi giorni ha intensificato gli attacchi a Trump spiegando che lei avrebbe più chance di battere il presidente uscente al contrario Trump nell'ultimo comizio ha detto che l'estrema sinistra tifa Halley perché poi sarebbe più facile batterla a novembre e ha ribadito che una volta la Casa Bianca libererà gli assalitori di Capitol Hill lei invece non perde occasione di sottolineare la carta d'identità del tycoon non ha più l'età ha detto la Halley quando Trump pochi giorni fa l'ha confusa con la democratica Nancy Pelosi mentre non è da meno in quanto a gaffe Biden che in un evento alla Casa Bianca ha confusi i nomi di due ministri del suo governo poche ore dopo che la sua portavoce aveva dovuto rimbeccare un giornalista di Fox News che aveva messo in dubbio la lucidità del presidente in ogni caso tutti gli indizi inevitabilmente portano proprio alla sfida bis Biden Trump 158 anni in due 81 il presidente 77 il suo predecessore dall'Europa arriva una doccia fredda così si dirà sulla unificazione di Ita con Lufthansa che succede? Ennesimo capitolo della storia infinita dell'ex compagnia di bandiera arriva come una doccia fredda da Bruxelles il rinvio al via libera definitivo al progetto di acquisizione di Ita Airways da parte di Lufthansa la commissione europea ha infatti ritenuto che l'accordo di un anno fa con cui il ministero dell'economia ha accettato di cedere a Lufthansa il 41% del capitale facendo sborsare ai tedeschi la risicata cifra di 325 milioni rischi di causare un problema di concorrenza con le altre compagnie aeree e possa comportare un aumento dei prezzi e una qualità dei servizi inferiore la commissaria la concorrenza Vestager ha quindi deciso di aprire un'indagine il cui risultato arriverà il 6 giugno per analizzare in particolare le rotte a corto raggio che collegano l'Italia con i paesi dell'Europa centrale su alcune di queste rotte infatti Lufthansa e Ita sono concorrenti diretti e hanno una concorrenza limitata da parte di altre compagnie soprattutto low cost come Ryanair che in molti casi operano da aeroporti più difficili da raggiungere nel mirino ci sono anche le rotte a lungo raggio come Stati Uniti e Canada qui la commissione deve valutare se dopo la fusione le attività di Ita Lufthansa e dei partner della sua joint venture Star Alliance di cui fanno parte United Airlines e Air Canada debbano essere trattate come attività di un'unica entità il rischio infatti è che controllando la tratta Lufthansa potrebbe per esempio approfittarne a scapito di altre compagnie di fronte ai paletti di Bruxelles il ministero dell'economia commenta con un comunicato continueremo con determinazione nel percorso intrapreso auspicando che la commissione decida magari prima del 6 giugno in modo da supportare sviluppo e crescita di Ita Airways anche in vista della stagione estiva vedremo se Bruxelles deciderà di mettere fine così alla lunga saga del fallimento di Alitalia la prima privatizzazione datata a 1996 col governo pro di commissariamenti i salvataggi infiniti costati oltre 10 miliardi di soldi pubblici dai capitani coraggiosi per preservarne l'italianità alla ricca iniezione di risorse degli emiratini di Etihad nemmeno quella riuscì a risollevare le sorti della compagnia in mezzo ci finirono migliaia di lavoratori lasciati a terra ieri all'inizio del telegiornale delle 20 24 ore fa quindi arrivò la notizia della morte di Gigi Riva Gigi Riva come succede ai grandi della scena pubblica è uno che è stato nella vita di tutti noi e non è un caso che ciascuno nei ricordi ricorda qualcosa che poi lo riporta a un passaggio personale a un momento indelebile molti si legano appunto a quello che è stato definito rombo di tuono e all'indomani 24 ore dopo lo si capisce ancora di più non è solo il nome di Gigi Riva ad essere legato ad una delle più belle partite che il calcio italiano ricordi ma è giusto pensare a lui quando si rivede Italia Germania 4 a 3 dei mondiali messicani del 70 oggi pomeriggio la 7 ha voluto omaggiare Gigi Riva proponendo quella gara indimenticabile e davanti al televisore a riviverla c'era anche Roberto Boninsegna lo avevamo chiamato per avere il suo pensiero sulla scomparsa di Rombo di Tuono suo compagno per tre anni al Cagliari e poi in nazionale e lui ci ha detto sentiamoci più tardi perché sto vedendo Italia Germania lui che l'ha giocata e vinta segnando anche il primo gol a distanza di 54 anni ha voluto essere di nuovo allo stadio a Zeca col suo amico Gigi Riva ho giocato assieme a lui tre anni a Cagliari addirittura i primi due anni in camera assieme con lui perché io non avevo la macchina al mattino andavamo a fare colazione assieme al ristorante lo stesso andavamo d'accordo forse meno in campo che qualche come diceva lui qualche vaffa è partito perché eravamo due punte un po' egoiste invece fuori dal campo insomma amici 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 io lo chiamavo Ul Gigi sì 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 col fisico che aveva quando partiva che andava come un treno cercavano di buttarlo giù e nessuno ci riusciva io lo facevo arrabbiare vado io sulla destra già tanto il tuo destro ti serve per camminare lui la buttava in ridere oggi allo stadio di Cagliari è stata allestita la camera ardente fuori una fila sempre più lunga dentro il feretro di Gigi Riva con la tuta azzurra della nazionale italiana e ai piedi quella rosso-blu del Cagliari i due unici amori di un calciatore straordinario fino alle 22 di stasera si potrà rendere omaggio a Riva e poi dalle 7 alle 13 di domani prima dei funerali alla Basilica di Bonaria e lì ci siamo in tanti idealmente così come perché lo sport è questo in tanti sono stati a seguire a distanza quello che è successo a Melbourne Australia dove un nuovo campione che piace a tutti Yannick Sinner è riuscito ad arrivare alle semifinali degli Australian Open dove incontrerà chi proprio lui Djokovic non si ferma il cammino di Sinner agli Open d'Australia primo torneo stagionale del grande slam il giocatore azzurro ha sconfitto in tre set 6-4 7-6 6-3 il russo Andrei Rublev testa di serie numero 5 ponendo la sua candidatura per il successo finale ma anche questa volta come nel 2023 a Wimbledon dovrà affrontare il suo grande rivale Djokovic la sfida di oggi contro Rublev ha confermato la grande solidità mentale di Sinner in grado di imprimere la svolta al match proprio nel momento più difficile a metà del secondo set aveva accusato un fastidio all'addome dovuto probabilmente ad una difficoltà allo stomaco qualche punto perso di troppo lo costringe a giocarsi tutto al tie-break si mette subito male per l'alto atesino che si trova in svantaggio per 5-1 per poi risalire man mano la corrente e chiudere 7-5 decisivo anche psicologicamente il punto vinto da Yannick al termine di uno scambio maratona di 24 colpi complessivamente la seconda partita è durata un'ora e 20 minuti qualcosa di rarissimo nel tennis di oggi per Rublev 8 palle break nessuna però concretizzata due anni dopo Matteo Berrettini un italiano si qualifica per la semifinale di Melbourne torneo mai vinto da un azzurro Sinner arriva all'appuntamento di venerdì con Djokovic senza aver mai perso un set ma è consapevole che il difficile arriva adesso è proprio per queste partite qua che mi alleno sono contento di essere qua sono contento di affrontarlo in un momento finale di un grande slam vediamo a differenza di oggi venerdì si giocherà quando in Italia sarà notte per gli appassionati italiani quindi pochissimo sonno e la voglia di spingere Yannick nella sfida senza appello a sua maestà Djokovic e infine c'è una bella notizia dal cinema dal cinema d'autore e non soltanto in generale perché Io Capitano di Matteo Garrone è entrato nella cinquina dei film candidati all'Oscar per il miglior film straniero la pellicola che rappresenta il nostro paese quindi racconta il viaggio drammatico e pieno di insidie di due giovani migranti che dal Senegal cercano di raggiungere l'Europa felice che l'avventura continui spero che venga visto da un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo ha commentato il regista romano tra le pellicole in corsa come miglior film internazionale anche Perfect Days di Wim Wenders il film che invece ha ottenuto più nomination in generale 13 e Oppenheimer di Christopher Nolan la cerimonia si terrà a Los Angeles la notte italiana del 10 marzo e invece tra poco per noi c'è Fuso Rario Italiano 8 e mezzo ospiti di Lillie Gruber Pierluigi Bersani Camilla Conti e Marco Travaglio poi è martedì e nell'omonima trasmissione di Giovanni Flores ci sono Corrado Augas e Maurizio Landini e tanti altri ci fermiamo infine duro attacco del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres contro Israele il numero uno di fatto dell'ONU ha definito inaccettabile la posizione del governo Netanyahu contrario alla soluzione di due stati con la Palestina l'intera popolazione di Gaza dice Guterres sta affrontando un livello di distruzione che non ha precedenti nella storia recente niente può giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese la chiara e ripetuta bocciatura della soluzione dei due stati ai più alti livelli del governo di Israele è inaccettabile è questa la posizione in realtà della gran parte della comunità internazionale Giova a ricordare che anche Amas ha detto di essere totalmente contrario alla soluzione dei due stati dopo di noi Gruber e poi Floris ci vediamo domani sera buonasera